Oggi con WeGrill prepariamo un trancio di salmone alla griglia con fettine di limone. Aggiungiamo un po' di olio, pepe, sale e qualche spicchio di limone. Prepariamo ora il nostro WeGrill. Utilizziamo l'accessorio teglia con griglia piccola. Utilizziamo il livello intermedio di WeGrill per cuocere al meglio il nostro alimento. Ora che il salmone è pronto non ci resta che servirlo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!